Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video, è arrivato il momento e Mettina se n'è andata, siamo diciamo tra virgolette tristi per il suo addio, ma la felicità di avere quella bestia qua con me, cioè, basta. Eccola qua, mamma mia. Allora, parecchi di voi avevano indovinato, anche se comunque penso era una scelta abbastanza banale, però comunque, voglio dire, MT-09SP con una clavovicce completo, banale, non ha nulla. Quindi niente, questo era semplicemente un brevissimo video per annunciarvi la nuova moto, farvela vedere sul canale, e prossimamente arriveranno tanti di quei video, quindi niente, se il video vi è piaciuto, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!